Alessandro fu re di Grecia dal 1917 al 1920. Il suo regno fu pieno di polemiche per la sua decisione di sposare una donna comune, una donna chiamata Aspasia Manus. Mentre camminava per i giardini del suo palazzo, Alessandro cercò di impedire al suo pastore tedesco di attaccare la scimmia da compagnia del suo maggiordomo, un macaco. Mentre lo faceva, Alessandro fu attaccato da un'altra scimmia che lo morse sulla gamba e sul busto. Le sue ferite furono pulite e medicate ma non cauterizzate e Alessandro chiese che l'incidente non fosse pubblicizzato. Però il morso della scimmia ben presto si infettò e Alessandro morì cinque giorni dopo.